Oggi molto chiaro, hai visto qua? Tutto qua è l'isola di Tozzo, guarda. È questa l'isola di Tozzo, oggi molto chiaro, come la pietra. Questa è l'isola di Camino, dove è la Laguna Blu, già visto Laguna Blu? Sì, sì. L'ho vista? Bello? Sì. È più bello alle 4, però affollato, affollatissimo. E se io mai porto gente qua la mattina, sempre alle 4, oggi ci sono posti liberi, alle 4 partire, e noi vede i turisti piano piano, alle 4 comincia a fare via, scende la barca qua, l'acqua, limpida, trasparente, quasi turchese, vero? Verissimo. E se la Laguna Blu, l'ultima crociera, allora c'è più tempo per nuotare, quasi due ore, due ore alla Laguna Blu abbastanza, visitando il villaggio di Braccio di Ferro, che si è fatto ben 37 anni fa, insieme alla Laguna, ok? Alle 4 partire, anche oggi, 7 meno un quarto ritorno, ok? Oggi è bello, domani è in buono solito. Ok? Ok?